Non ho esitato ad aderire al progetto che mi è stato presentato un paio di mesi fa dalla dottoressa che è qui alla mia sinistra, dottoressa Carmen Bollaro riguardo ad un progetto filmico da tenere in questo territorio d'Albanella che prende spunto da una storia vera, dall'uccisione per sbaglio di un ragazzo avvenuta nel 2004, un'uccisione di mafia, una mafia che sbaglia il bersaglio e uccide un giovane dal nome Dario Scherillo. Su questa storia lo scrittore, anche molto conosciuto perché è l'autore di numerosi libri a sfondo sociale, politico, culturale eccetera e di approfondimento di fenomeni sociali inquietanti come quelli della Camorra. Su questo episodio lo scrittore Tonino Scala ha fatto un libro che si chiama il cui titolo è Ed è subito sera. Non racconta la storia ma la elabora e costruisce un romanzo dove ci sono tre protagonisti. Vi anticipo soltanto queste cose anche per spiegarvi perché mi fa piacere e mi farebbe piacere perché poi è una cosa che bisogna trasferire a voi, che ad Albanella si faccia questo film. Si basa su tre personaggi. Un personaggio è appunto questo giovane che muore, Dario Scherillo. Un altro personaggio che è il mafioso che viene denominato Muccoso. E' un altro personaggio che è un procuratore della Repubblica che indaga sui fenomeni mafiosi a Napoli e che si trova praticamente ad indagare su questo delitto. Quindi in questa cornice di Camorra c'è l'indagine del magistrato ma c'è anche una situazione psicologica di grande paura del magistrato perché teme per il proprio figlio, teme che la Camorra possa individuare un nuovo bersaglio proprio per intimidirlo che è appunto il figlio. E allora il magistrato che fa? Indaga ma si rifugia in un luogo sicuro dove mette a sicuro i propri cari. E questo luogo sicuro è stato individuato in Albanella. Cioè come paese indenne da mafia, paese indenne da qualsiasi fenomeno malavitoso. C'è una grande differenza fra questo film che ha avuto grande successo, che l'abbiamo visto un po' tutti quanti, che è Gomorra, che prende spunto appunto dalle opere di Saviano. Nell'opera di Gomorra non esiste lo Stato, lo Stato è assente. Esiste soltanto il malavitoso, esiste soltanto il camorrista che vive una vita sfarzosa, che muore pure, però è il protagonista di una vita che potrebbe essere una vita ricercata da tante persone che vorrebbero vivere meglio. Cioè è un messaggio che potrebbe essere interpretato male. Lo Stato è assente, è presente il malavitoso ed è presente la sua vita. Certamente poi rischia anche di essere ucciso, ma vive nello sfarzo. Questo è in Gomorra. Nella proposta filmica di questo film che si chiama Subito sera è tutto l'opposto. Lo Stato è presente in maniera forte, viene svilita agli occhi di chi guarda il film il personaggio malavitoso e viene appunto evidenziata la presenza dello Stato. Contemporaneamente anche la presenza del Paese, che è un Paese indente da mafia e che è Albanella. Ecco perché ho accettato, perché se fosse stato diversamente non avremmo aderito a questa proposta. Fortunatamente noi viviamo in un Paese pulito, indente da qualsiasi fenomeno camorristico e malavitoso alle porte del Cilento e vogliamo trasferire questo messaggio di un Paese dove viene ricercata la sicurezza che ha anche qualità di vita. Mi fa molto piacere che quando la settimana scorsa la dottoressa Carmen Vollaro con i suoi collaboratori è venuta qui è rimasta meravigliata delle bellezze del posto. E se aveva qualche dubbio si sono dipanati definitivamente. Io non intendo più continuare perché voglio cedere la parola a chi vi può trasferire concetti più pregnanti e di approfondimento, però credo che questa sarà una bellissima occasione per il territorio perché il territorio possa essere conosciuto. Perché come vi spiegheranno successivamente questo sarà un film impegnato che verrà proiettato in tutte le sale cinematografiche italiane. Sarà anche l'occasione per stare insieme, sarà anche l'occasione per socializzare, sarà anche l'occasione per trascorrere un periodo in compagnia di amici che insieme a noi sicuramente lanceranno un grande messaggio culturale e sociale. Signori innanzitutto buonasera, da parte di Tonino vi porgo le sue scuse, non è potuto essere presente ma è come se lo fosse, il prossimo incontro sicuramente ci sarà. Cos'altro aggiungere dopo quello che ha detto il sindaco? Veramente molto poco. Sono anni che la nostra casa di produzione cinematografica, in collaborazione anche con altre, fa un'operazione di turismo su territori un po' avulsi dal turismo classico. Mi spiego meglio. Facciamo film non più a Sorrento, non più a Napoli, non più a Dischia, non più a Capri perché qualche anno fa facendo un film per l'estero ci siamo resi conto come il nostro territorio italiano è ricco, ricchissimo anche di più di bellezze paesaggistiche e non. Le nostre operazioni sono semplici però credo che siano quasi geniali oserei dire con molta chiaramente umiltà. Facciamo questi film perché vogliamo fare dei film perché ci piace fare arte in questo modo, però vogliamo mostrare anche altri territori. Noi siamo venuti qui ad Albanella la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, quando finalmente negli occhi ci si sono impressi i vostri paesaggi ci siamo resi conto che il vostro paese, così come tantissimi altri paesi, ma il vostro paese in questo caso merita davvero di essere scoperto e di essere visto. Quindi è un'operazione, se vogliamo parlare in questi termini, turistica. Questo film però, a differenza di quasi tutti gli altri perché noi facciamo commedie, in questo caso abbiamo deciso di cimentarci in un prodotto difficile, difficilissimo, per un motivo semplice. io non sono napoletana, loro invece sono autottoni di Napoli, però a Napoli spessissimo sentiamo giovani, giovanissimi, emulare, e questo ci fa molta tristezza, i camorristi. Gomorra ha creato dei falsi miti. Per l'amor di Dio, io non parlo di Gomorra perché non l'ho creato io, non ci lavoriamo su quel set, tecnicamente può essere anche meraviglioso, forse, però ha creato realmente dei falsi miti e questo è pericoloso. Il nostro film vuole far capire esattamente qual è la vera vita, perché se io sono ricca perché ho tolto denaro in maniera violenta a qualcun altro, mi devo guardare le spalle, sicuramente non posso prendere un aereo e farmi un viaggio con il mio fidanzato, con mia moglie, con i miei figli, devo aver paura ogni giorno che posso essere sparato, certo, posso andare a letto con la donna più bella del mondo, ma quella donna ci viene perché mi ama, scusate, non perché mi ama, perché la pago. E allora è questo che noi vogliamo far capire con questo film, che quelli non sono da miticizzare, perché non sono degli eroi, sono al contrario degli antieroi. Quindi io mi rendo conto che ed è subito sera, è una partita difficile, difficilissima, però noi vogliamo, vogliamo e lo vogliamo fortemente, vorremmo cercare di essere la testa d'ariete capace di far capire vi piace Gomorra perché è fatto bene? Noi facciamo lo stesso un prodotto fatto bene dove vi facciamo vedere non solo cose d'azione ma vi facciamo vedere anche dei bei paesaggi però vi facciamo vedere anche un'altra vita, quella vera, che è la nostra, perché io non sarò un miliardario, ma grazie a questo film lo diventeremo tutti quanti ovviamente, non sono miliardaria per adesso, però mi posso permettere il lusso di andare a cena fuori e di non avere paura. Questi signori sono ricchi ma non possono andare a cena fuori. Passo la parola a Domenico Morra. Una cosa importante, l'obiettivo importante che abbiamo deciso ovviamente di sposare tutti è quello di far pensare, perché spesso come diceva Carmen, dopo che uno ha riscontrato questi grandi miti, non solo di Gomorra, di Bastardi Pizzo Falcone, quello che sia, tutto quello che è la criminalità organizzata, c'è sempre, finisce la storia, ti senti gasato e vorresti spaccare il mondo, ma nessuno pensa mai alle conseguenze di questi atti. Questo progetto è la conseguenza di un atto, un ragazzo che è morto, una vittima innocente, una persona che è stata ammazzata per uno scambio di persone. Scambio di motorino, addirittura. Quando la sfortuna si mette veramente di sana pianta, questo ragazzo è stato veramente il top, le aveva tutte quante lui quella sera. Quindi il destino è stato proprio veramente infame con questo ragazzo. Quello che però ha creato questa morte, purtroppo, questa vittima innocente, ha creato una risposta. Si sono formate delle associazioni, proprio quella del fratello di Dario Pasquale, che è il presidente dell'associazione Dario Scherillo, proprio si chiama l'associazione, che è un'associazione che combatte proprio questa lotta. Automaticamente noi a Napoli viviamo forse un pochettino di più questa esperienza, perché Napoli è una città molto grande, demograficamente è molto ampia. La criminalità è organizzata e anche bene, bisogna dire la verità. Infatti tutti i film come Gomorra o quello che sia hanno tanto da raccontare, possono prendere spunto su tante storie. La periferia è abbandonata e quindi automaticamente è terreno fertile per queste operazioni. E purtroppo non tutto il terreno è in marcio, ma ci sono tante tante situazioni interessanti, tante situazioni culturali che vanno spinte. E per fortuna, e crediamo noi fortemente, che con questo progetto possiamo mettere un tassello in più. Non risolveremo sicuramente il problema, per l'amor di Dio. Avere la bacchetta magica sarebbe il top in questo momento. Ma noi vogliamo far sì che si muova qualcosa, perché l'omertà oggi non serve a nulla. Già lasciare un pensiero, uscire dalla sala e pensare che quella è la realtà che fa male. E non quella che vediamo, i miti, mitizzare la situazione, i soldi, la bella vita, non hanno mai fatto la felicità della gente. Questo lo sapete più voi, che siete un comune, credo molto più aggregato, tra virgolette, rispetto a Napoli, che siamo tanti e separati. Quindi non per questo si è scelto un comune che avesse dentro quella forza giusta per rappresentare questa idea. La partecipazione attiva è quella che normalmente si chiede in un progetto simile, perché la partecipazione attiva crea realtà. La realtà fa capire che non è un documentario, perché stiamo parlando di cinema, ma l'idea è quella, la veridicità, la storia. Questo è quello che si chiede quando si riscontra in un comune la partecipazione. Da quello che mi ha informato Carmen, che io sono stato assente per problemi di lavoro negli incontri precedenti, mi ha parlato benissimo non solo del sindaco, ma della partecipazione proprio che c'era della comunità. Quindi il sindaco ha prospettato una buona partecipazione. Quindi ovviamente l'avete votato, quindi penso che se il sindaco dice voi dovreste partecipare. Quindi per noi può essere solo un onore innanzitutto far sì che questo progetto prenda grande sviluppo in questo posto. Ovviamente saremo poi noi veramente a pretendere in quel caso, perché avere solo le location cioè è un bel paese, per l'amore, io ho fatto un giro, prima di arrivare ci siamo anticipati proprio perché volevo vedere qualcosina, avete degli squarci bellissimi, avete cinema, veramente, cioè un fotografo qua si diverte, però senza pietà. Quindi i posti sono belli, se c'è anche la partecipazione delle persone, veramente può nascere non un bel progetto, ma un grande progetto, perché il bel progetto serve a pochi, un grande progetto serve a lasciare qualcosa. Quello che noi vogliamo è proprio quello, Pasquale Scherillo ha un desiderio, è quello di creare tutto il possibile per far sì innanzitutto che il fratello non sia dimenticato, ma non dimenticato come uomo, ma non dimenticare l'avventura, la disavventura che ha vissuto, per far sì che nessuno possa provare quello che ha provato lui e la sua famiglia. che in famiglia perdere un figlio, se tu hai un figlio camorrista, un figlio che è un delinquente, prima o poi te lo aspetti, ma un bravo ragazzo, un lavoratore, un giovane che veramente, per l'amor di Dio, che senza peccato scaglia la prima pietra, ma non era un ragazzo che poteva fare quella fine. Ed è un dramma che ha vissuto non solo la famiglia, ma tutta la comunità, che oggi attivamente risponde. Però, la cosa fondamentale, quando tu giri come Gomorra, ad esempio, io sono di Ponticelli, sono nella periferia di Napoli, in un quartiere ovviamente che ha i suoi problemi, quando gira, se io vado a girare un film a Ponticelli o gira Gomorra, Gomorra viene portato alle stelle e il mio film può passare anche per fastidio per la comunità. questa è la differenza, perciò automaticamente abbiamo deciso di allontanare proprio da città che hanno, nel bene o nel male, si identificano come città che hanno la camorra all'interno della politica, della gente comune e peggio ancora, perché comunque nel bene o nel male comanda sempre, sappiamo come funziona in determinati situazioni, la politica è uno specchietto ma c'è sempre chi muove i fili. In queste città, come la vostra, cioè che è un comune libero da mafia e camorra, ovviamente c'è una sensibilità e non solo quella, c'è proprio il vostro biglietto da visita. Sarebbe stato ridicolo andare a girare a Secondigliano, perché Secondigliano non approva questo tipo di progetto, approva Gomorra. Anche se non voglio fare un erba a un fascio, perché Secondigliano ci sono tantissime persone per bene, ma purtroppo a loro fa più comodo che si giri Gomorra. La cosa particolare è che parecchi miei amici e colleghi di Roma, di Milano, quando vengono a Napoli mi chiedono di andare a vedere, sì, Mergellina, il lungomare, ma poi le vele, cioè dove hanno girato Gomorra. A me dà un po' fastidio, devo dire la verità, perché quando venivano i miei colleghi, come si dice a Napoli, mi sono sempre sparato in poso, perché noi abbiamo una città bellissima comunque, cioè la Campania è bellissima ovunque, ed essere veramente ricordato perché c'è Gomorra o c'è questo, non è tanto bello, almeno per me che faccio questo mestiere da 10-12 anni, è un po' bruttino sentirsi, ah tu sei dove girano Gomorra, l'associazione a me che fa piacere. Quindi automaticamente, e questa è la mission di questo progetto, è proprio togliere quest'immagine negativa che c'è, soprattutto questo velo, veramente un velo triste su questa storia, rapportandolo con un paese che è libero da queste opinioni, è libero da questa felce, è libero da questa negatività. Noi vogliamo far vedere che c'è sempre un pensiero positivo, c'è sempre un qualcosa da fare, si può reagire in un modo o in un altro, e lo dobbiamo a persone che hanno sofferto, lo dobbiamo a tutti quelli che prima di noi hanno cercato di fare qualcosa. Vi ripeto, non cambieremo il mondo, per l'amor di Dio saremo ipocriti, nemmeno creeremo l'utopia, ma almeno far sì che i giovani o chi guarderà questo progetto filmico, che c'è qualcosa di diverso, ci sono delle vite vere, non sono solo pallottole e soldi, c'è gente che ama, crede, vive e vuole vivere tranquilla, vuole vivere serene, perché la vita va vissuta per bene, è un dono prezioso ed è sbagliato che venga stroncato in questo modo. Questo è quello che vogliamo fare, vogliamo far sì che si crei questa macchina per far capire a tutti che è sbagliato, perché ancora oggi qualcuno riconosce che queste cose sono cose buone, ed è sbagliato, perché la vita è un bene prezioso. Quindi noi dobbiamo far sì che tutti siano sicuri, tutti siano tranquilli e non esistano episodi simili, perché Dario non è il primo e l'ultimo. Dario Scherillo è uno dei tanti, tante vite. Noi abbiamo scelto la storia di Dario perché c'è un rapporto con Pasquale, ovviamente anche Pasquale De Rosa, Paco, che in passato già come attore ha interpretato delle opere teatrali che riguardavano proprio queste vittime innocenti. Quindi c'è una sensibilità da anni, c'è un rapporto con queste associazioni. Perciò noi facciamo in modo che loro abbiano sempre più voce. Oggi ci sono dei metodi per far sì che la gente sappia, che sono quelli della comunicazione, cinema e televisione. Noi ci occupiamo di cinema e cercheremo di fare cinema al top, al meglio che possiamo fare, perché questo progetto merita più energia di quella che noi possiamo mettere in una commedia. Ed è l'impegno che noi mettiamo, che sarà il 200% delle nostre energie. Chiediamo anche a voi di partecipare attivamente, perché il progetto veramente merita. E non perché vogliamo tirare acqua al nostro mulino, perché come si dice acquaio, come l'acqua è fresca. Non è quello il nostro modus. In questo momento noi vogliamo che anche voi mettiate un tassello per la storia di Dario. Facciamo sì che questa storia di Dario sia conosciuta da tutti, tutti sanno cosa è successo, sanno cosa si può fare per evitare questo. Questo è il nostro progetto. Perché dire il cinema è bellissimo, il film lo vedremo tutti, a noi interessa il messaggio. Questo è un progetto sociale innanzitutto. Non nasce come progetto business, anche se Carmen si vuole fare la casa, probabilmente comprerà una villa a fianco a quella, una villa ad Albanella. Quindi noi puntiamo a lasciare un messaggio e vogliamo fare in modo che le facce che si vedono sullo schermo siano facce libere e non facce contaminate. Quindi potrebbero essere le vostre. Mi sono dilungato un po' troppo, quindi vi chiedo scusa. Se avete qualche domanda le fate a lui. Il progetto è sociale, però c'è una parte ludica alla quale io sono legatissima e non posso non dirla. Quando si sta su un territorio con una truppa cinematografica che sono tra le 20 e le 30 persone, con un regista, con gli attori, una cosa che vi succederà, e poi noi alla fine del film, se riusciamo, e mi auguro con il vostro aiuto veramente di farlo qua, noi faremo un'altra conferenza a fine film e voi mi darete ragione, perché succede sempre così. Voi comincerete ad amare non tanto gli attori. Perché? Uh, quello ci sta Pago qua. Pago, tu non devi venire a queste conferenze. Anche gli attori. Ma voi comincerete ad amare le persone della truppa. I macchinisti, gli elettricisti, gli attrezzisti, le segretarie di edizione, i ragazzi che ci dovranno aiutare in tre milioni di cose, perché noi in tre settimane costruiamo un mondo parallelo. E la nostra peculiarità rispetto a tutti gli altri set, compreso Gomorra, è che i nostri set non sono blindati. Voi avrete accesso e dovete assolutamente avere accesso al film, perché io vorrei, noi vorremmo che voi partecipaste attivamente al set. Chi come figurazione speciale, chi come comparsa, chi come quello che ci dice mi serve la spingola francese giusto per la puoi andare a prendere lì, aspetta tu sei impegnata qui, te la vado a prendere lì. In qualsiasi modo, in cento milioni di modi, perché fare un film è un impegno incredibile, che vuole quello che diceva prima Domenico, che vuole una coesione incredibile. Tra l'altro noi abbiamo la fortuna, adesso lo posso dire pubblicamente, di avere un regista, l'unico regista italiano che ha vinto un premio awards per i musical, Claudio Insegno, che è un regista conosciutissimo, bravissimo, che stavo lavorando con Cristian De Sica ultimamente, e che ci ha fatto l'onore, perché è un onore per noi chiaramente, di accettare questo progetto. L'ho accettato per il tipo di progetto, per l'azienda chiaramente che c'è alle spalle, perché ci conosce, abbiamo fatto con lui altre cose, però proprio per il tipo di progetto. Quando noi gliel'abbiamo proposto con tanta, ovviamente, umiltà, lui è stato entusiasta, è stato entusiasta perché sa come lavoriamo, sa come ci mischiamo con le persone del posto, sa che troviamo delle perle nascoste come la vostra Albanella, e spero poi un giorno di poter dire anche la nostra Albanella, chiaramente. E insieme a Claudio Insegno abbiamo un parterre, l'ho detto bene, di attori di livello nazionale e di internazionale. Io vi posso fare dei nomi che fanno parte del fiore di Claudio, cioè tra quelli papabili, tra Michele Placidi o Cristian De Sica, Leo Gullotta, noi abbiamo questo tipo di attori ai quali miriamo, poi sarà Claudio a decidere tra quelli che vi ho elencati, quello che vi porterà qui ad Albanella, uno di questi, ma già semplicemente avere Claudio Insegno sul territorio, che è una persona meravigliosa, è già un grande... Poi ha saputo che nel Cilento si mangia bene, quindi lui... Avrà accettato per questo, vero? Secondo me sì. Però secondo me, poi ce lo direte voi. E questo è semplicemente per dirvi, questa è la parte ludica, il progetto sociale ovviamente, altrimenti non avrebbe ragion d'essere, però ci divertiremo un sacco, perché stare su un territorio con una troupe cinematografica fatta di persone anche un po' pazze, perché chiaramente per chi fa cinema deve essere necessariamente un po' pazzo, vedete un po' le persone con le quali mi accompagno. Ma giusto. È assolutamente divertente, poi si diventa una grande, grandissima famiglia, per questo alla fine vi ho detto, poi mi direte voi, è vero che ci si aspetta sempre l'atturone, insomma la persona che recita, però alla fine vorrete bene a chi sta dietro le quinte, a chi veramente si sveglia alle 6 del mattino e forse non va neanche a dormire per preparare il set il giorno dopo. Ed è questo che noi ci auguriamo. Quindi facciamo una campagna, vogliamo bene a Carmen? No, non ero io. No, io non vado a dormire assolutamente. Quindi per questo vi chiedo grande, grandissima partecipazione. E veramente in tutti i sensi. Organizzeremo, spero, a breve un'altra conferenza dove ci sarà anche lo sceneggiatore che vi parlò. E forse anche Claudio. E forse anche Claudio. Se riesce a... E poi ovviamente faremo qua sul territorio anche i casting. Dove siete invitati tutti. Ma tutti, tutti, perché noi nel film... Ma infatti già vedo alcune belle facce qua, eh? Io non inviterei l'assessore che già è preso. No, l'assessore già ci sta nel film. Già, abbiamo fatto il contratto. Io lo posso dire perché io l'ho visto. Tu hai visto, sì, infatti lo devo vedere meglio. Io l'ho visto, non ve l'ho passato ma l'ho vista. No, a parte sì, sono tante belle facce. Sì, ma qui c'è ancora un'associazione culturale, credo che faccia teatro. Eh, infatti io ne ho visto un'associazione di teatro qua. Quindi ai casting, mi raccomando, siete tutti quanti invitati perché sicuramente per fare tutte le figurazioni all'interno del film non prenderemo mai, mai persone che non sono del territorio che ci ospita. È anche un modo per ringraziarvi e poi per divertirci tutti quanti insieme. Grazie. Grazie.